Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Dangan Refute Anime. H.I.G.H. Quali tipo l'ester, cotton, ecc. Material, and let intensity at the time of shooting, according to the monitor of the use, there is a case to be able to see that it is strictly different from the actual about the way. Because it is an overseas import goods, there is a case to include lint and sweat place of the sewing. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.